...di sinistra, 5 Stelle al lavoro per la preselezione del candidato a sindaco. La Roma non ha fallito Marino, ha fallito l'intero partito democratico, il Movimento 5 Stelle è forte, è l'unica forza politica non immischiata in scandali di corruzione, malaffare, davvero di malapolitica. Chiediamo a cittadini di metterci alla prova, si deve andare al voto il prima possibile.